...e due cose... ...e due cose... ...e due cose... ...e due cose... ...como fa? ...C... ...C...L...K... ...facchiamo la seconda tecnica... ...doppo... ...la prima... ...tendiamo qua... ...C... ...doppo facciamo... ...la tecnica è possibile... ...ok? ...chefoi non è possibile... ...dipo prende pantaloni per grammi... ...la même cosa... ...a la parte di queste due... ...on prende pantaloni... ...quando... ...qu'è qualcosa di difficile... ...dipo prende pantaloni... ...ok? ...c'è la prima cosa... ...si questa... ...ci'è molto utile... ...dipo prendono qua che da lavorare se mi ultima questo io non posso fare devo fare questo bene dopo laterale fuori no laterale dentro no perfettamente laterale bene come calcio ecstamente bene 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 bene